Anche quest'anno Pordenone celebra con una cerimonia la giornata della memoria che ricorre il 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz istituite in commemorazione delle vittime del nazismo, del fascismo e dell'olocausto. Oggi nella giornata della memoria si possono ricordare dei fatti specifici accaduti qui a Pordenone. In modo particolare oggi possiamo ricordare il dramma della famiglia Barzotto. Il padre Francesco era segretario comunale di Pasiano, Bruno Barzotto aveva seguito l'appello di Concetto Marchesi, il rettore di Padova, ed era entrato nella resistenza pur praticando la funzione medica nell'ospedale di Pordenone. Bruno Barzotto viene arrestato dalla Brigata Nera, portato nel carcere e poi portato a Udine. Il padre lo segue cercando di salvarlo finisce, il padre è a sua volta arrestato e morirà a Flossenburg e il figlio portato a Dachau sopravviverà alla guerra ma le conseguenze e deprivazioni del lager lo porteranno a morire nel 1947 qui a Pordenone per le sofferenze. E rappresenta alle celebrazioni anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. È un passaggio che non è un obbligo, è una partecipazione sentita e profonda da parte dell'amministrazione del Comune di Pordenone a questo che non è un evento, ha la funzione di mantenere come ho detto il nostro cervello sempre in allarme. Quando noi organizziamo le giornate della memoria con i nostri ragazzi lo scopo è di far sì che nel tempo queste cose non svaniscano, rimangano costanti, riusciamo a trasferirle ed evitare che tragedie come quelle che sono successe durante la Seconda Guerra Mondiale non accadano più. Quindi ricordiamoci di questo evento ma facciamo sì che diventi una parte della nostra vita e dei nostri convincimenti costanti da portare avanti tutto l'anno. Grazie a tutti.